c'è il sesto stato che si chiama la consapevolezza divina nella quale il testimone incomincia a risvegliarsi anche nell'oggetto della vostra osservazione quindi guardate questa pianta o quella farfalla e mentre la guardate anche a livello di percezione notate che c'è un arcobaleno che c'è la luce che c'è terra acqua vento spazio e tutta la storia della creazione tutto qui in questa farfalla e poi andate oltre e vedete che c'è lo spirito lì c'è un testimone ed è lo stesso testimone che c'è qui quindi vedanta dice se non riesce a trovare di in questa farfalla allora non lo troverai nemmeno nei libri dio è questa consapevolezza del momento centrata sulla vita che vi permette anche il livello di percezione di andare oltre l'apparenza fino alla realtà questa è la conoscenza divina e non potete scappare da dio non importa dove andate infatti visto che questo testimone ovunque sempre è onnipresente omnisciente onnipotente ed è qui adesso che testimonia la consapevolezza di questo istante come possiamo evitarlo vedanta dice lo spirito non è difficile da trovare è impossibile sfuggirlo tutto ciò che dovete fare è portare la vostra attenzione nel posto giusto non lasciate che la vostra attenzione sia distratta dall'ego basta che lasciate andare nel libro in corso in miracoli si dice lasciate ogni pensiero di attacco e non appena lasciate ogni pensiero di attacco vi rendete conto che il sé è qui ed è anche lì ed ogni attacco che fai è rivolto a te stesso quindi non appena lasciate questo siete nel campo della consapevolezza e in questo stato la sincronicità si accelera fino a quando avete l'esperienza del miracolo la differenza fra invisibile visibile diventa molto più piccola e il manifestare si occupa di questo la differenza di tempo fra il manifestato e il non manifestato si accorcia quindi invece di chiamarla sincronicità e coincidenza la chiamiamo miracolo e oltre la consapevolezza divina c'è lo stato finale di coscienza che si chiama consapevolezza unita dove lo spirito che è dentro si unisce con lo spirito che è fuori ancora sant'agostino disse vedere te dentro di me e io fuori di me lì ti cerco ma poi ti trovo dentro di me e ti trovo anche fuori di me sei ovunque e quando lo spirito individuale si incontra con lo spirito cosmico questo è lo stato di coscienza unita che va oltre la nostra personalità individuale va oltre l'ego imprigionato nella pelle in questo stato di coscienza vedanta ci dice che la noi abbiamo l'esperienza che il nostro corpo e il corpo cosmico sono una cosa sola normalmente non abbiamo esperienza di questo normalmente diciamo questo sono io e quali sono gli altri oppure questo sono io e quello è il mondo esterno nella consapevolezza unita si dice questo sono io e quello sono io e quest'altro sono io la citazione di vedanta dice io sono questo questo sei tu tutto questo e questo è tutto ciò che c'è e se veramente 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 capite questo non c'è altro da dire quindi grazie di esser venuti e buonanotte nella consapevolezza di unità l'universo viene percepito come il nostro stesso corpo ed è chiamata l'esperienza di immortalità rumi ha un poema che descrive questo lascia che l'acqua si calmi e vedrai le stelle e la luna rispecchiarsi nel tuo stesso essere questo è lo stato in cui andiamo oltre il miracolo quindi c'è un percorso e questa è una bella cosa è un percorso già esplorato da whitman turò emerson e da tutti i grandi saggi dell'oriente e da tutti i grandi profeti e ora noi stiamo incominciando a capire che non solo sentiero è già stato percorso ma anche che il nostro stesso sistema nervoso cambia nella sua fisiologia per creare questi stati le onde celebrari dello stato di coscienza cosmica sono diverse da quelli di altri stati quindi volevo solo aggiungere queste mie parole a quello che wayne aveva già magnificamente spiegato grazie una delle persone che entrambi ammiriamo molto un poeta sufi del dodicesimo secolo si chiama rumi rumi scrisse 12 poesie al giorno tutti i giorni per 12 anni aveva un maestro chiamato charge molte delle sue poesie non sono sopravvissute al tempo ma maestro shazm si dice che disse io me tu lui lei loro queste sono distinzioni che non esistevano il giardino dei mistici a me piace pensare la mia vita nei momenti come questi quando sono un corso come questo al chopra center o in qualsiasi altro momento come un giardino dei mistici i nativi americani lo dicevano in un modo leggermente diverso dicevano nessun albero ha rami così stupidi da combattere tra di loro e quando pensate alla coscienza di cui parlava dipak la coscienza unitaria bisogna essere in grado di vedere se stessi negli altri era questo che dicevi dipak se non puoi vedere te stesso lì allora il tuo ego è impegnato nel processo bisogna saper fare un passo indietro e guardare te stesso una cosa che io e mia moglie abbiamo fatto che ha veramente migliorato la qualità della nostra relazione soprattutto perché a volte ci dicevamo questo non suona come amore perché a volte ci accorgevamo che ci stavano parlando in modi che nessuno dei due voleva invece di provare ad aver ragione uno sull'altro fermiamoci e chiediamoci come posso essere gentile come possa andare una risposta gentile penso che la risposta gentile sia la risposta della coscienza unica e penso che sia vero non solo nella relazione tra marito e moglie ma anche nella relazione con i figli con i camerieri gli assistenti di volo i facchini gli automobilisti in strada è qualcosa che non abbiamo ancora fatto per noi stessi è un modo per mettere in contatto noi stessi con la nostra parte superiore che poi la parte che manifesta se c'è una cosa che ho detto e che dipak ha sottolineato più volte è che il manifestare non fa parte dell'ego le particelle non sono responsabili della loro creazione dovete venire da questa parte venire da questa parte significa prendere la decisione di vedere se stessi anche nella persona che stiamo attaccando dandole torto bisogna dire non ho bisogno di avere un ego qui e dirle grazie per avermi detto quanto sono sciocco ne avevo bisogno e lasciare andare l'attaccamento alle cose questo è un modo per arrivare allo spirito perché quando arrivate allo spirito manifestare diventa una cosa che fate con intenzione una volta che siete fuori dal mondo fisico nel mondo della saggezza è qualcosa che come persone non siamo molto bravi a fare è come se come persone abbiamo bisogno di avere un nemico se abbiamo un nemico abbiamo qualcuno da combattere e se non abbiamo nemici cominciamo a fare la guerra tra di noi dobbiamo creare quel tipo di relazione nella quale qualcuno ha ragione qualcuno ha torto ora se potete lasciare andare questa situazione allora il manifestare diventa una vera possibilità penso che questo sia vero anche nella guarigione il poema dei nativi americani di cui wayne parlava è utile da ricordare quando siamo incastrati nell'ego perché l'ego è pieno di auto importanza castaneda diceva che l'auto importanza è una maschera per l'auto commiserazione diceva che un modo per sapere se una persona è triste per se stessa e notare come si comporta se si comporta da persona molto importante è perché sta cercando di nascondere proprio quello quindi auto importanza auto commiserazione ego sono la stessa cosa un poema di ogewe dice una volta ogni tanto mi auto commiserò e negli altri momenti la mia anima e rigonfia dei grandi venti dei cieli e tutte le volte che mi trovo in questo stato mi ricordo questo poema una volta ogni tanto mi auto commiserò e negli altri momenti la mia anima e rigonfia dei grandi venti dei cieli stavi parlando di facchini prima e qualche settimana fa stavo facendo il check in in un albergo a chicago e c'era questo giovane ragazzo afroamericano e aveva questa straordinaria scintilla negli occhi stava prendendo il mio bagaglio e il nostro sguardo si è incontrato e lui mi ha detto uè tipo questa roba è profonda io dissi cosa e lui disse questa roba è profonda gli risposi allora hai capito e gli disse no ma sembra vera vedete questa è la differenza fra il sapere e il razionalizzare perfino un bambino sa queste cose queste cose che non richiedono esperienza perché sono senza tempo ho avuto una bellissima esperienza la scorsa estate di ipac non so se ne ho parlato in grecia la scorsa estate eravamo a Maui con tutta la famiglia e abbiamo una bambina che aveva sette anni allora oggi ne ha otto e il suo nome è Sage la nostra figlia più piccola lei aveva un tipo di verruche sul viso le ha avute da quando aveva tre anni e mezzo o quattro e tutte le volte che l'abbiamo portata dai medici ci hanno detto la stessa cosa sono verruche di un tipo che non possono essere curate non vogliamo bruciarle perché potrebbero lasciare cicatrici sulla faccia e andranno via in futuro ma negli anni non solo sono rimaste ma hanno incominciato a peggiorare e l'estate scorsa infatti ho notato che quando lei era al sole le verruche non erano solo vicino al naso e alla bocca ma si stavano avvicinando agli occhi e tutta una parte del suo viso era coperta da queste verruche lei non piaceva chiamarle verruche per qualche ragione lei chiamava dossi la parola verruche non era mai piaciuta i miei dossi la persona che le chiamava verruche era sua sorella serena che diceva tu hai ne verruche lei odiava sentire quella parola era una mamma ui e lì c'è un medico che ha deciso di lavorare dove gli piace vivere è un surfista è un dermatologo quindi ha deciso di aprire uno studio alle Hawaii partecipa a molti dei nostri corsi legge i nostri libri spesso mi manda anche quando del materiale interessante quando lo trova me lo invia una persona giovane sveglia veramente spirituale qualcosa di abbastanza inusuale nel mondo medico ed eravamo lì e stavamo prendendo della crema protettiva e gli chiesi potresti guardare Sage guardare il suo viso lui sorrise poi le puntò della luce bianca sul viso guardò attentamente e le disse Sage hai delle verruche e io dissi tra me bene proprio quello che ci voleva e poi disse la buona notizia è che non le avrai quando ti sposerai dovete sapere che Sage aveva sette anni quindi non era molto interessata al giorno del suo matrimonio lui gli disse andranno via non c'è una cura conosciuta poi disse tutte le cose che ci hanno già detto sulle verruche che poi se ne vanno e così via e alla fine disse non ci sono medicine che ti posso dare